Alessia, mamma! Alessia, tutti di un po' e te mi chiamo! Mi sta portando per la te! Si chiamò la popola mia, no? No, è la mia, è la famiglia, sì! Quando ti metti su, veramente, mi so portati! E' così da ora, un turno di piatto! Dimo, che sto facendo?